Le banconote della Shoah storie di denaro nei campi di concentramento, così si ricorda la giornata della memoria alla fondazione Ivan Bruschi. Si tratta di circa 150 esemplari di buoni, denaro che circolava solo all'interno dei campi di concentramento nazisti, facenti parte della collezione di carta moneta Bistoni custodita all'interno della Casa Museo Ivan Bruschi. Già in uso nei campi di prigionia della Grande Guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, vennero utilizzati in sostituzione delle banconote di corso legale per pagare il lavoro dei prigionieri. Ci si poteva comprare qualcosa negli spacci se ci fosse stato. Noi sappiamo che le banconote di Theresienstadt furono utilizzate esclusivamente per il prestito dei libri. Il prestito che aveva un prezzo altissimo e che quindi chiaramente spesso non veniva utilizzato. Ci sono delle particolarità che lei rilevava nel suo racconto, come ad esempio quella stampa là, chi ha ideato questa grafica ha fatto anche una sorta di denuncia posteriore. Ebreo che ha ideato questa grafica e in più ha espresso il suo pensiero facendo in modo che la parola lager, che vuol dire campo, in realtà fosse scritta liars, che però vuol dire assassinio. E che quindi non è più il campo di concentramento ma sono gli assassini del concentramento, riferendosi ai due soldati che stavano sul buono. Storia particolare quella raccontata nella sezione dedicata al campo di Theresienstadt, conosciuto come Terezin, titolo anche del film propaganda, che doveva testimoniare il regalo di Hitler agli ebrei, una città Terezin, appunto dove la vita scorreva serena e felice. Ma tutto questo è falso. C'è stata tutta una grandissima messa in scena e questo film è stato fatto per pubblicizzare, diciamo, di propaganda, per far vedere che in realtà in questi campi di concentramento non si stava così male. Compreso il fatto di volere, per tacitarsi la coscienza, su ordine del Reich, Mosè che tiene in mano le tavole della legge, però copre con la mano il quinto comandamento, non assassinare. Però qui ci sono poi le fotografie dei dormitori e uno si rende conto benissimo di come stava la cosa. Considerato che il regista di tutta questa messa in scena e di questo film, insieme a tutti gli attori, una volta che la Croce Rossa ha visto quello che doveva vedere, sono stati tutti deportati a Auschwitz e tutti soppressi. In mostra anche le banconote di quella che verrà ricordata come Operazione Bernard, la più grande opera di falsificazione della moneta, stavolta di corso legale, della storia contemporanea. Era stata fatta dai nazisti per fiaccare l'economia inglese attraverso l'emissione di un massiccio quantitativo di sterline false. E naturalmente queste sono state fatte nel campo di Sackenhausen da personale ebreo che chiaramente aveva delle competenze nella tipografia, nell'incisione, nei segni. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 30 di aprile.